Fare della settimana Santa Pugliese è patrimonio della Regione attraverso interventi regionali di tutela e valorizzazione delle processioni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge presentata dal consigliere regionale del gruppo misto Gianni Liviano. Sentiamo. Fare della settimana Santa Pugliese è un patrimonio immateriale della Regione attraverso interventi regionali di tutela e valorizzazione delle processioni. E' questo lo spirito alla base della proposta di legge presentata dal consigliere regionale del gruppo misto Gianni Liviano. In tutti i paesi della Puglia, sottolinea Liviano, le processioni di statue, cortei di donne velate, di uomini incappucciati, di ali di folla silenziosa e commossa e di musiche funebri e solenne suonate dalle bande musicali animano le strade, richiamano folle numerose e turisti provenienti da molti luoghi. I riti in verità cominciano già prima della settimana Santa con diverse rappresentazioni della passione vivente, come d'Altamura e Conversano, vere opere teatrali recitate in costume nelle strade del paese o delle campagne, specie nelle suggestive gravine come a Ginosa. Si prosegue con le processioni della Sacra Spina ad Andria, della Dolorata a Taranto, dove la processione tra ali di folla sempre presenti esce dalla chiesa di San Domenico Maggiore nella città vecchia, alla mezzanotte tra il giovedì e il venerdì santo e fa ritorno nel Duomo solo nel pomeriggio del venerdì, dopo aver camminato ininterrottamente per le vie della città per tutta la notte e la mattina successiva. Poi Biceglie, Bitonto, oppure la processione della Desolata a Canose e a Gallipoli, dei Misteri a Taranto, dove la processione esce dalla chiesa del Carmi nel venerdì pomeriggio e ne fa rientro nella mattinata del sabato. E poi ancora a Molfetta, a Ruvo, Valenzano, ma ovunque è la più diffusa, del Santo Legno, poi a Conversano, di Cristo Morto, a Monte Sant'Angelo e a Botrugno, degli Otto Santi, a Ruvo di Puglia e della Pietà a Molfetta. Questi riti hanno ormai una risonanza che travalica i confini regionali e nazionali, tanto da convogliare nelle città bimare durante la settimana santa, tantissimi turisti provenienti da ogni luogo, ritiene Liviano. Sei gli articoli che formano la sua proposta di legge e puntano a far sì che la Regione, sulla base della programmazione pluriennale, conceda annualmente i contributi in favore di quanti iscritti all'albo regionale per la promozione in Italia e all'estero degli eventi. La dotazione finanziaria per questo esercizio finanziario è di 200.000 euro.